Bella ragazzi, bentornati qui sul canale di Granatz e siamo tornati con i vecchi trapani che vogliono conquistare e niente, questo c'è una squadra tramadonna si, c'è uno squadrone dagli, c'è uno squadrone comunque c'è poco da dire sulla classifica perché siamo a 0 punti dopo la prima giocata e abbiamo incontrato, se vi ricordate Neymar, Messi e Ronaldo puoi anche passare comunque si, no, non so perché ma fanno una di pascatti il giocatore oh, grande i vecchi trapani sono pronti alla prima vittoria della divisione 6 vattene, vattene, vattene entra dentro guarda Cevigno no, guardo Palazio mamma mia, storica di Cazeres Cazeres su Aguero Aguero Cazeres eh, Cazeres cazzo che è Cazeres è Cazio perché l'orologio trapani oi, mamma mia Diego Lopez vecchio trapano oh, Palazio oh no, perché sembra vai Palazio bella bella palla ballo ballo oh, che cazzo vai oh no, ma che cazzo vai che culo oh, no, perché mi sto sbagliando e mi sono tornato indietro e i turbe go vado, vado, vado ma che cazzo vai cazzo vai cazzo quanti i turbe i turbe il sinistro di turbe il sinistro di turbe mamma mia l'ha provato eh sì Astori Astori dribbling belli i dribbling d'Astori mi piace è cool è cool è in mezzo è cool è cool è cool è cool è cool è cool medel di testa il palazio vede Gervi il palazio non lo vede più Gervi vede qualcuno, no, non vede nessuno ci prova Astori ma che provi qua Astori guarda invece la pallonbella si, la pallonbella è una affanculo bam bella 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 c'è intesa in questa squadra c'è intesa vai ah, mi so c'è capito piano piano guarda che culo oh, vai io me la valore ti ho l'ho vai così palazio palazio d'esterno くre turbina non va mannaggia addio u cazzata eh ma madonna oh in media niente non è finita sta partita sembrava semplice ma non lo è che mi sputi vaffanculo eh, perchè così e me le riprende eh, certo dai sti cazzi del gol beh Ammedel e andiamo un po allunga sta gambina del merda guarda che buccio di culo no, no guarda che buccio di culo via che chiotravana glidegree Rudy per la palazzo chiaschietti stoppera insomma da lui verde in urbe in urbe la corsa in urbe in urbe iduronare sotto solo idurbe 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 e trovere in mezzo progetti in pace però ragone porca eva ha deciso no ha deciso testa e meta guarda che cuore! guarda che cuore! non ci voglio crede e dai cazzo non hai neanche chiuso la palla per necola è per gelvigno che... porco del lento gelvigno è dentato lento vanno in mezzo troppo lungo però va bene così perchè me ne la prova al tiro la chiusura... mamma mia caceres caceres mamma mia che rischio qua ma... gelvi... e vabbè no vabbè no no incredibile ma non si può oh ma che è? palasio guarda i turbe i turbe subito gelvi che taglia vai turbe vai turbe fallo! gelvi in mano! ma ancora che me fuori santo figlio che schifo dai a dire giocarsi e tu prima quei turbe fai la stessa cosa stavamo 4 anni adesso vanno vai! vai! e ora conco subito lo rilancia i turbe che la prende male però la p... che cazzo de culo! allucinante! allucinante! vai piala 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 ma sturi! bello palasio 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 e fallo! e mia vai! e che! e che! vai! buce di culo non c'è che si esce 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 devo guardarlo devo guardarlo ma presa via col vento e la città la città questo mondo ma via che palle ma quanto erano pressa questo vaffanculo o o.a stavolta 10 il titolo anche per tutto tranquillo io non parlo gervi gervi no 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 come il burro come che cosa è il burro bella così bella così palacio 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 o no 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 è passato non ci posso dire è passato prova l'ultimo lancio manco io manco mi ha fatto lanciare non credibile sono veramente avvenenato votiamo vincere abbiamo fatto i coglioni siamo stati stupidi sia noi che soprattutto è stato curato lui noi ci vediamo al prossimo episodio e cerchiamo di mettere almeno un punto in questa certa divisione perchè è iniziata malissimo ma carbureremo mettiamo un diesel quindi alla prossima bella ciao ciao ciao